Un posto al sole, trame 26 febbraio-2 marzo, Valentina aggredisce Gaetano. Dopo aver fatto una scoperta incredibile, Valentina farà un gesto totalmente inaspettato. Eccoci tornati con l'appuntamento con le anticipazioni di un posto al sole, la sua app Partenopea, che promette un'altra settimana ricca di colpi di scena. Le trame relative agli episodi in onda dal 26 febbraio al 2 marzo, rivelano che la protagonista assoluta sarà Valentina, la quale dopo aver scoperto qualcosa di terribile, farà un gesto inaspettato quanto incredibile. La donna infatti, aggredirà il suo compagno Gaetano Prisco. Gaetano aggredito. Gaetano Prisco viene aggredito e cade a terra. In seguito Valentina non avrà il coraggio di confessare la verità e incolperà qualcun altro per l'aggressione. Ferri è sempre più contrariato dal rapporto, che si sta venendo a creare tra suo figlio Sandro ed Alberto Palladini. Intanto quest'ultimo coglierà un'altra occasione per avvicinarsi al nipote e cementare il loro rapporto. Vittorio è sempre più diviso tra la sua coscienza e i suoi sentimenti per Anita. Gaetano è in ospedale e lotta tra la vita e la morte mentre Franco, che è stato accusato dell'aggressione, vive momenti davvero difficili. Roberto non vede di buon occhio il legame tra Sandro ed Alberto e così finirà per avere un litigio con il figlio, il quale prenderà una decisione davvero spiazzante. Vittorio sembra deciso a mettere da parte i sentimenti, che prova per Anita, lei eccetera. La polizia sospetta di Franco. La polizia sospetta sempre di più che Franco sia colpevole dell'aggressione a Tristola. Intanto, Angela intuisce chi sia il vero responsabile del tentato omicidio di Gaetano. Sandro vuole assumere Alberto Palladini, ma Roberto, che è contrario, gli mostrerà dei documenti, che provano l'inaffidabilità e la disonestà dello zio. Superato brillantemente il primo esame all'università, Vittorio riceverà delle congratulazioni inaspettate. Valentina depressa. Dopo l'appello di Angela, Valentina appare sempre più depressa e potrebbe fare un gesto disperato. Diego viene dimesso dall'ospedale, e Silvia è sempre più preoccupata per sua figlia Rossella, che è sempre più presa dal ragazzo. Sandro continua a difendere Alberto, ignaro che l'uomo stia tramando alle sue spalle, mostrando un comportamento sempre più ambiguo, quali saranno le sue vere intenzioni. Valentina scagiona Franco. Valentina finalmente deciderà di recarsi in commissariato e dire la verità. La sua deposizione, farà cadere tutti i sospetti, che la polizia aveva su Franco, il quale verrà scagionato. Inoltre, potrebbe aiutare Giovanna ad incriminare Prisco. Silvia entrerà in crisi per la sua intromissione con Diego e cercherà in vano la solidarietà di Michele. Al contrario però troverà conforto nel suo editor Emanuele, col quale instaurerà una sempre maggiore complicità. L'inaspettato arrivo di Alice al vulcano traumatizzerà Andrea, costretto a realizzare di colpo di avere una figlia avviata a grandi passi verso l'adolescenza. Al prossimo episodio